carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi il salmo d'ingresso della mese di oggi dice salvaci signore dio nostro radunaci dalle genti perché ringraziamo il tuo nome santo lodarti sarà la nostra gloria il vando dell'uomo sa ne servire il signore nel sottomettersi a lui non nell'essere lui qualcuno ma essere qualcuno nelle mani del signore e infatti san paolo ci dirà che la carisma quello che sopra ogni altro carisma è quello dell'amore quello della carità e nella prima lettura di oggi la chiesa ci presenta la vocazione del profeta geremia lui era giovane non sapeva parlare il signore chiamò e il signore disse non dire non so parlare e lo invia ad andare a nome suo dicendo prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto prima che tu uscissi alla luce io ti ho consagrato ti ho stabilito profeta delle nazioni tu dunque stringi la veste ai fianchi alzati di loro tutto ciò che ti ordinerò non spaventarti di fronte a loro altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro perché non spaventarti tu vai nel nome mio io mi prenderò cura di te e tantissime volte il profeta geremia fu minacciato di morte esposto alla berlina calato in un pozzo senza acqua farlo morire e via dicendo ma da tutto da liberare il signore perché il signore è con lui non ti temere ti renderò come una torre di bronzo ecco io oggi faccio di te come una città fortificata una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese contro i re di giù dei suoi capi contro i suoi sacerdoti il popolo del paese ti faranno guerra ma non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti e così avvenne ma chi è il profeta fratelli? il profeta è la persona che si è arresa a Dio che non agisce per sé la caratteristica del profeta prima di tutto è la santità di vita e la sottomissione alla parola di Dio secondo luogo totale distacco da interessi finanziari politici e altro terzo è quello che è totalmente disponibile alla volontà di Dio in favore dei fratelli ecco il profeta che non scende al compromesso per nessuna ragione ma obbedisce a Dio e così è fu di Geremia fino all'ultimo giorno della sua vita fu perseguitato e quello che diceva non ci dice mai quello che vogliamo a noi e Geremia annunceva sempre ciò che il Signore voleva dire attraverso di lui ora fratelli ogni cristiano proprio perché appartiene a Cristo e è aperto allo Spirito Santo di Dio è predisposto al dono della profezia al dono cioè di saper ascoltare la parola di Dio e di annunciarla San Paolo nella prima lettera ai corinti dice voruglio che tutti impariate a profetizzare non a predire le cose perché la profezia non è predire profetizzare e parlare a nome di Dio annunciare ciò che il Signore ispira e quindi tu sei battezzato hai aperto il cuore allo Spirito Santo di Dio e lo Spirito Santo ti possiede per annunciare la sua parola ci sono di quelli poi che hanno questo dono in grande in grande quantità altri invece hanno il dono in maniera più ridotta ma ogni cristiano proprio perché appartiene al corpo di Cristo partecipa alla triplice missione di Gesù quindi sacerdotale regale e profetica nella seconda lettura di oggi poi troviamo l'Apostolo Paolo che parlando dei carismi ricorda che ci sono che il primo carisma è quello di proclamare che Gesù è il Signore quello di glorificare Gesù nessuno mosso sotto l'azione dello Spirito Santo Gesù è anatema come solo mosso dallo Spirito Santo possiamo dire Gesù è il Signore il carisma è una manifestazione dello Spirito Santo che dà gloria a Gesù Cristo manifesta la gloria di Gesù in noi e l'Apostolo allora dice che il più grande carisma è quello della carità è quello della carità impegnare la propria vita per la salvezza altrui per il bene altrui per avvenire il regno di Dio nei fratelli tutti i carismi scompariranno ma c'è un carisma quello dell'amore che durerà in eterno non scomparirà mai le profezie scompariranno il dono delle lingue cesserà ma quando verrà c'è un occhio perfetto quello che è imperfetto scomparirà perché un giorno si avrà la visione e di fronte alla visione tutti gli altri carimi e carimi scompaiono noi da bambini parliamo da bambini e pensavamo da bambini ma quando siamo diventati adulti abbiamo già da parlare da adulti così anche i carismi crescono crescono davanti a Dio ma il carisma più grande è quello della carità vuoi avere un grande carisma apri il tuo cuore alla carità cerca il povero madre Teresa di Calcutta dice cercate gli ultimi cercate gli ultimi non chi chi vi può arricchire ma chi non vi potrà mai arricchire servite loro date la vita per loro allora il vostro nome sarà grande davanti al Signore e poi nel Vangelo troviamo l'episodio di Gesù che va a Nazareth e rilegge il passo quando si dice il Spirito del Signore è sopra di me e via dicendo e dopo aver fatto questo c'è una grossa contestazione verso Gesù perché? perché Gesù inizia il suo sermone dicendo oggi oggi si è realizzata questa parola lo Spirito del Signore è sopra di me come si è realizzata questa parola ma non il figlio di Giuseppe prima di Maria eccetera non si riconosce Gesù dai tratti umani si riconosce Gesù dai tratti dello Spirito lui porta lo Spirito di Dio dentro di sé per cui dice Gesù che quando c'era Elia c'era molto vedo in Israele ma soltanto quella di Serebta di Sidone fu aiutata così in altre circostanze ora qui c'è qualcuno più grande di Elia e di altri profeti hanno detto queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù ma egli passando in mezzo a loro si misse in cammino Gesù non non ne batte mele passò in mezzo a loro senza essere toccati Signore Gesù Tu sei il profeta del Padre Tu sei la parola di Dio Tu non annunci la parola sei la parola sei la parola che ha creato i cieli Tu sei la parola che si è fatta carne nel crema della Vergine Maria Tu sei la parola che porta ogni uomo a salvezza oggi ti chiediamo Signore mette nel cuore di ogni uomo la fame e la sete di Te perché nessuno si perda e tutti abbiano a riceverti nella propria vita manda perciò su di noi il Tuo Santo Spirito vieni Spirito Santo Spirito di Dio donaci di riconoscere Gesù presente in mezzo a noi vieni Spirito Santo donaci seguire Gesù come nostro Signore e Salvatore alve gloria onore potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli Amen e Tu Vergine Santissima guida tutti noi figli tuoi a saper riconoscere il figlio tuo Gesù ad accettarla ad annunciarla a dare la vita per Lui a non cercare il nostro vantaggio ma la sua gloria la venere il suo regno e la salvezza dei nostri fratelli e apri i cuori di tanti perché tutti abbiano riconoscere Gesù come Signore e Salvatore a cui sale ogni loda e gloria per tutti i secoli dei secoli Amen e la Tua benedizione Signore oggi tocchi il cuore di tutta la Chiesa rinnova la fama e sete di Te pane vivo disceso dal cielo e il mondo torna a vivere e a sperare tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli Amen oggi fratello prova a chiederci c'è qualche persona a cui io posso annunciare una buona notizia e qual è questa buona notizia che Gesù lo ama che Gesù lo salva che Gesù ha impiuto tutte le promesse che in Gesù ogni promessa di Dio sia realizzata e nel suo nome salga a Dio la nostra roda e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli Amen Amen